Quella di sabato scorso è stata per il movimento aeronautico fanese una giornata da incorniciare. La visita a Fano del capo di stato maggiore generale di squadra aerea Alberto Rosso scrive una nuova pagina nella storia dell'aeroporto di Fano, Enzo e Valtero Miccioli, che per la prima volta ha accolto il capo assoluto dell'aeronautica militare italiana. Un incontro organizzato da Aeroclub Fano e con il sindaco Massimo Seri in persona, fresco di rinomina, a dare il benvenuto al generale Rosso, atterrato nello scalo fanese insieme a circa 30 aeroplani del Royal Ailes Squadron, composto da diversi piloti della RAF. E lo stesso generale Rosso è stato leader, d'eccezione, del Fly Fano Team, volando in formazione dal lago Trasimeno fino a Fano, ai comandi di un Pioneer P200 del Cavalier Davide Picchi. È un aeroporto che ha tradizioni importanti, è un piacere veramente immenso per me essere oggi qua come rappresentante dell'aeronautica ma anche come appassionato di volo e vedere la realtà, la passione e il contributo che Fano dà al mondo dell'aeronautica, al mondo dell'aviazione. Quindi veramente una gioia, sono felicissimo di essere oggi in mezzo a voi. Un problema tecnico però ha impedito l'arrivo delle due star principali della giornata, ovvero il Supermarine Spitfire e il P51 Mustang, bloccati in Germania purtroppo da problemi tecnici. Ma lo stesso proprietario del leggendario Spitfire, protagonista nei cieli della battaglia d'Inghilterra, ha voluto comunque raggiungere Fano, noleggiando un'automobile e subarcandosi 11 ore di strada. E comunque una volta arrivato a Fano ha promesso che riproverà a portare il leggendario veivolo inglese nello scalo della fortuna. Un riconoscimento anche per questo aeroporto, la dimostrazione che è vivace e come ho sempre definito il nostro aeroporto un gioiello di questa città. Questa presenza testimonia anche un bel rapporto che Fano ha con l'aeronautica militare. La presenza oggi del capo di Stato Maggiore ne è una testimonianza che ci onora e ci rende orgogliosi. Tante le persone poi che hanno voluto assistere all'arrivo dello stormo dalle terrazze dell'aeroporto Micioli che dopo una breve cerimonia nell'hangar 1 con scambi di presenti e targhe ricordo da entrambe le parti è poi ripartito per una visita del palazzo ducale di Urbino accolto dallo stesso sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Insomma dopo la trasvolata Fano Cosworth del 2015 compiuta dal Fly Fano Team i rapporti con l'aeronautica inglese sono sempre più stretti e cordiali e si annunciano nuove iniziative per il futuro. Sabato prossimo 29 giugno intanto si terrà la terza edizione di Paradrenalina, la giornata dedicata ai diversamente abili che avranno la possibilità di volare ma anche di fare un giro a bordo delle auto da drifting del team RCM e dei fuoristrada del team East Coast Jeepers.